Buon pomeriggio, oggi è sabato ed è il 2 settembre del 2017. Leggendo qualche versetto qua e là, qualche scrittura, oggi leggevo quel versetto che è scritto in Prima Giovanni 4.4, dove è scritto Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Questa riflessione serve a incoraggiare quanti stanno guardando a non temere le circostanze, a non temere le avversità, a non temere le battaglie, tutto ciò che si scatena contro di voi. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è in noi è più grande di ogni difficoltà, più grande di ogni mancanza, più grande di ogni battaglia, più grande di ogni guerra, più grande di ogni avversità, più grande di ogni problema che stiamo attraversando, più grande di qualunque valle nella quale noi stiamo passando. Se stiamo passando attraverso il fuoco, attraverso le acque, dice, quando passerai attraverso le acque, non sarai sommerso, se passerai, quando passerai attraverso il fuoco, non sarai bruciato. Perché? Perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E riflettevo a quelle parole che Gesù disse, vi ricordate in Matteo 12,24, quando lo accusavano di cacciare i demoni con l'aiuto di Beelzebub. Quello che diciamo sempre è che realmente la religione o la focalizzarsi troppo sulla legge fa diventare persone veramente ottuse, stupide, perché non ci fa rendere conto della realtà spirituale che viviamo, che è attorno a noi. Gesù disse, se io caccio i demoni per lo spirito di Dio, allora vuol dire che il regno di Dio è giunto fino a voi. Riflettevo il fatto che lo Spirito Santo ci fa veramente vivere nella dimensione del regno di Dio. Non riguarda semplicemente i cacciare i demoni, ma lo Spirito Santo è colui che ci comunica il regno di Dio, che ci insegna come vive il regno di Dio. Lo Spirito Santo è colui che ci incoraggia a vivere nelle cose che riguardano il regno di Dio. Tutto quello che noi facciamo non sono opere religiose. La nostra vita è semplicemente vivere una vita nella dimostrazione di quello che il regno di Dio è e di quello che il regno di Dio ci permette di fare. Non è uno scontro tra religioni, è uno scontro tra due regni. Gesù l'ha detto, se Satana non può cacciare Satana, se Satana caccia Satana il suo regno è finito, è diviso. A volte mi rendo conto come all'interno appunto delle realtà religiose ci si fa guerra gli uni contro gli altri. Non ci rendiamo conto che in questo modo a volte non aiutiamo il regno di Dio ad andare avanti. Lo Spirito Santo, l'avere a che fare con lo Spirito Santo, il parlare con Lui, il discutere con Lui, il lasciarsi consigliare. Gesù ne ha parlato abbondantemente quando noi leggiamo Giovanni 14, 15 e 16, quando Lui introduce proprio la persona dello Spirito Santo dove dice io vi lascerò uno come me, un allos paracletos, uno della mia stessa natura, uno che è esattamente come me e che vi farà vivere le cose nella stessa maniera come ve le faccio vivere io con la grande differenza che non solo Lui è con voi ma che Lui vivrà in voi. Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Io voglio incoraggiarti a vivere la tua vita nello Spirito. Cosa significa vivere la vita nello Spirito? Significa distaccarsi da questo mondo? Significa andarsene su un pizzo di una montagna e vivere là, abitare lì lontano dalla vita di tutti i giorni? Assolutamente no. Vivere nello Spirito significa avere a che fare con lo Spirito Santo ogni giorno. Significa parlare con Lui, dialogare con Lui, significa lasciarsi consigliare da Lui, lasciarsi guidare da Lui. Perché? Perché Lui vive dentro di noi. È colui che è in noi e è più grande, più grande di qualunque situazione. Lo Spirito Santo che è dentro di te ti aiuterà a cacciare tutti i demoni attorno a te o nelle situazioni in cui ti troverai. Perché? Perché l'autorità che Lui porta dentro di te è più grande dell'autorità di qualunque maledizione che possono lanciare contro di te, di qualunque parola, di qualunque pensiero, di qualunque diceria, di qualunque situazione che c'è attorno a te. Non sprecare la tua vita, il tuo tempo, cercando, ripeto, di cambiare il pensiero che gli altri hanno di te o cercando di fermare quello che le persone possono pensare di te o dire di te. Vivi la tua vita nello Spirito. Vivi la tua vita parlando con Lui, dialogando con Lui, lasciandoti consigliare, lasciandoti insegnare come vivere, come affrontare determinate cose, come stare con le persone, come affrontare magari un problema. Perché? Perché colui che è in te è più grande, lui ha una sapienza più grande, lui ha una prospettiva più grande, lui è Dio, lui non è un uomo. E se tu vivi con Lui, tu vivi nello Spirito. Romani 8 dice queste parole bellissime, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché? Perché la legge dello Spirito della vita ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non vivono più nella carne, ma vivono nello Spirito. Vivere nello Spirito significa vivendo una vita nella comunione con Lui. Non significa parlare da soli e fare come i pazzi, ma significa avere... Mi ricordo ci fu una parola che un giorno un uomo disse in un campeggio nel 1991, non potrò mai dimenticarlo, disse questa parola che cambiò la mia vita, o quantomeno mi diede una prospettiva totalmente diversa. disse sii sempre cosciente dello Spirito Santo che abita dentro di te. Sii sempre cosciente del fatto che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo, che colui che è in te è più grande di qualunque situazione, più grande di qualunque condizione, più grande di qualunque cosa assurda che tu possa vivere. Colui che è in te è più grande. sii sempre cosciente dello Spirito Santo che abita dentro di te. E se vivi nello Spirito tu vivi nel Regno di Dio. Se vivi nel Regno di Dio allora le cose cominciano ad avere una prospettiva totalmente diversa. Chi vive una religione non riesce a vivere le cose del Regno, ma chi vive nello Spirito, chi vive lo Spirito Santo comincerà a sperimentare cose che non ha mai sperimentato. se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio diceva Gesù vuol dire che il Regno di Dio è giunto in mezzo a voi. Questo è qualcosa che sicuramente ci fa riflettere perché ci sono persone che riescono a vivere il Regno di Dio ci sono persone che non riescono a vivere non perché sono cattive non perché sono meno importanti o meno intelligenti o meno preziosi no è una questione semplicemente di rivelazione tu devi desiderarlo lo devi volere cerca prima il Regno di Dio e la sua giustizia cioè la tua posizione in esso tutto quello di cui tu hai bisogno lo troverai lì nel Regno di Dio che è una dimensione totalmente diversa dalla dimensione della carne dove non significa che non sbaglierai più dove non significa che non farai più errori non farai più stupidaggi ma ciò che fa la differenza ricordati Dio non tratta con te in base alle tue azioni Dio tratta con te in base all'attitudine del tuo cuore quindi custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa le tue azioni cominceranno a cambiare e vedrai il Regno di Dio manifestarsi in maniera meravigliosa vivi nello Spirito vivi con Lui vivi avendo a che fare con Lui sii sempre cosciente che colui che è in te lo Spirito Santo è più grande di qualunque cosa possa succedere attorno a te una buona giornata